Cristo Regni, volevo farvi notare qualcosa che è sicuramente interessante, cioè il fatto che le assurdità che dice Cionci non sono accettate neanche dagli storici, almeno se voi guardate la Treccani, vedete che dice chiaramente quello che tutti sappiamo, che Ratzinger si è dimesso e al suo posto è stato eletto Papa Francesco. La Treccani, certo, per produrre questi articoli in cui afferma queste cose, certamente si vale di autori, di storici ovviamente di livello e che affermano cose storicamente fondate, quindi vedete come le affermazioni di Cionci non sono accettate prima a livello canonistico, ma poi anche a livello storico, vedete un testo come la Treccani certamente non accetta queste cose, ma anche l'enciclopedia britannica che è un altro testo che certamente ha una sua importanza, la potete consultare su internet, una enciclopedia che raccoglie molto materiale, ecco, ugualmente dice la stessa cosa e appunto cari fratelli questo ci deve far capire come le corbelerie di Cionci sono radicalmente condannate anche dal punto di vista storico. Non mi consta che nessun grande storico accetti le assurdità che dice Cionci, anche perché sono chiaramente contrarie proprio alle prove che ci vengono direttamente da quelle persone che stavano intorno a Benedetto XVI e dai dati chiari del diritto canonico. Quindi le assurdità che diffonde Cionci sono inaccettabili anche dal punto di vista storico, sono ricostruzioni del tutto fantasiose, che non hanno nulla a che fare con la scienza, sia con la scienza canonica, sia con la scienza teologica, sia con la scienza storica. Santa giornata a tutti voi!